Panariello, panariello, me lo ricordo, me lo ricordo. Ma che è ancora vivo? Eh, è un po' che non lo rivedo. Me lo ricordo, me lo ricordo. Veniva al bar, era piccino così, faceva un casino, figliamangino tutti. Buonasera, ciao Capuzzo! Buonasera, guarda che meraviglioso, c'è più gente fuori che dentro lì. Com'è questa faccenda? Allora, si faceva prima di stare tutti fuori, vengo a farlo lì. Come va? Siete di Capuzzo o portoghesi? Bene, bene, ma mi fa piacere, basta che vi divertiate, ma chi se ne frega. Senti, mi sta bene che freschino c'è qui. Qui si sta bene, altro che, altro che. Poi mi hanno riempito il camerino, noci, olive, ammazza socele. Io cammino così quando esco da qua stasera, perché speriamo bene, però insomma mi avete curato bene, no? Magari siete troppo gentili. Grazie. 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 Grazie.